Gentili direttori e caporedattori, ho avuto modo di leggere nei giornali della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario in Toscana. Si è parlato di molti temi, carceri piene, furti in appartamento, mafia e schiavitù, reati economici, grandi inchieste come la Concordia, carenza di organici e denaro. Al solito non si è fatto un cenno al problema criminale della violenza stradale, che ogni anno in Toscana affonda 10 Concordia, sia come morti che come costi, dimostrando la scarsa sensibilità del nostro sistema giustizia al tema. Inizia così la lettera, inviata anche alla nostra redazione, da Stefano Guarnieri, padre di Lorenzo, morto in un tragico incidente stradale alle Cascine nel giugno del 2010, che da allora si batte per una maggiore sicurezza sulle strade e per l'istituzione del reato di omicidio stradale. I numeri dicono chiaramente, prosegue Guarnieri nella lettera, che da un punto di vista criminale la violenza stradale dovrebbe essere messa al posto più alto nella lista delle priorità. In un anno genera più omicidi di quanti la mafia ne ha fatti in 100 anni. Ma nella nostra cultura questo non conta. Conta molto di più la parte emozionale di quella razionale e molti dei componenti della giustizia, magistrati, polizia e legislatori, sono ancora convinti che sulla strada si venga uccisi o feriti per colpa del fato. Il caso c'entra veramente poco. Le statistiche dicono che non arriva al 5%. Il resto lo fanno dei comportamenti fuori legge alla guida, ma questo per molti di loro conta minimamente. E ancora, siamo il paese dove chi uccide un giovane guidando sotto l'effetto di alcol e droga non subisce un giorno di privazione di libertà e continua a vivere normalmente nel completo anonimato. Noi con la nostra associazione e insieme a tanti altri non molleremo e porteremo le nostre istanze, prima fra le quali l'introduzione del reato di omicidio stradale al nuovo Parlamento e al nuovo governo per richiedere un cambio di marcia su questo tema.